neo form ragazzi vi da il benvenuto in questo nuovo video scomboso in sul canale di simona chiedi marchi ed è l'unica carta con cui ancora abbiamo scombato perché non abbiamo avuto questo onore di mettere segnalini ci ho scombato tanto in historic ma qui in pioneer non siamo ancora riusciti a usare neo form ma per ora siamo 2 1 siamo contenti come stai edo tutto bene tutto bene alla grande nuova giornata nuova scombata io intanto do il play ma ieri ti avevo fatto una domanda sullo standard alla fine mi avevi risposto ma tra l'altro c'è subito l'oppo quindi vedi non devo far domande non c'è bisogno devo far domande devo giocare al gioco del magic non abbiamo vinto un dado penso è credo è terra terra accelerante keep keep neo form questa è vittoria turno 3 questa è vittoria turno 3 sempre comunque on the draw ma ci sta bene è però occhio mamma mia mamma mia il devasto e tu pensa cioè la gente mi insulta che lo gioco 80 carte tu pensa giocarlo 60 carte dove peschi solo queste carte qui e per dire partite a caso opponente che terre sono quelle che non capisco niente sono due rouging triom quelle gescai questo match up abbastanza dalla nostra parola chi è lui niv mizzet non penso non pensi però ha tirato fuori anche il nero quindi per ora sono quattro colori teferi secondo me è proprio niv mizzet allora qua diventa già più interessante forse la sicuramente devo fare terra nera e questo me l'hai spiegato e la faccio e poi dobbiamo capire se vogliamo giocare intorno a fratta o sbatterci nelle scatole tirare dritto come i draghi secondo me tirare dritto come i draghi è giusto guarda non avevo mai proprio accettare il consiglio con così tanta velocità attenzione a non sbagliare creatura balustrade spy il target siamo noi questo è il nostro turno 3 e questa è la borda che stiamo per vomitare in faccia sentite faccio un'altra domanda ma è rotto sto mazzo cioè va bannato in molti si lamentano soprattutto in chat quando giocano contro di me chiaramente c'è un po di frustrazione secondo me no cioè io penso di aver fatto è stato un carpe diem secondo me cioè ne ho approfittato del momento in cui era sottovalutato e non era molto giocato adesso che c'è vento un ptq sicuramente la gente si setterà è infatti già lo giocherò meno spesso in lega in pioneer perché sono sicuro che sarà pieno di odio cioè alla fine come hai visto doppio pezzo di odio già attime tempo noi ieri abbiamo giocato una partita contro aure che già come mi ha detto un brutto match up ha pure pescato doppia gappia hash brinker e ci ha mandato proprio dicono con triplo pezzo di odio più race ci sono tanti mazzi che possono permetter solo tra cui paura anche lui non solo potrà permettere no lui no ma questi mazzi qua cioè io io ho fatto il ptq con ops all sparse perché esistono questi mazzi qua che fanno i primi turni nulla e quindi questo mazzo se ripreda facilissimo e lui non abbiamo capito cosa gioca credo di ripeto ho visto quattro colori tra cui pure il nero non può essere sicuramente mettiamo un sage sicuramente mettiamo le dures metterei 12 abrati e togliamo un informer togliamo un vorm togliamo un chill quante carte dobbiamo togliere ancora altre tre togliamo sicuramente due brutality togliamo forse il terzo brutality cosa avevamo tolto l'altro e tu hai detto che volevi avere otto scartini quindi non ho tolto qualcos'altro allora forse avevo messo solo un cape possiamo togliere uno di quelli che da menas molto probabilmente ma non so lui non mette molti bloccanti però le vratte quindi fargli scartare può essere carino che cosa avevamo tolto non ci dà eventualmente possiamo togliere uno di quelli che da più fatto via submettiamo e vediamo che cosa capita doppio di gay lo giochiamo perché lui gabbia non lo può non la può giocare giusto perché lui fa bring to light non so se gioca rest in peace lanterna cioè dobbiamo avere un minimo di risposte a quelle carte lì qui non abbiamo terra verde perché se no la mano non era vale facciamo duress di secondo colletti brutali di dopo scartandoci gol volendo questa è un'altra di quelle mano borderline nel quale ci basta ci basta pescare un payoff abbiamo un doppio scartino ci basta davvero pescare però abbiamo solo sette payoff quindi questo è un amulico peccato perché suonava tutto bene anche qui manca terra verde poi ci sono tre pezzi si no questa questa è un malligan questa è tremenda questa già sono quattro carte e non sono quattro carte buone ok questa è la nostra mano perché levo questo levo questo secondo me dobbiamo kipparla per forza allora priced via poi c'ho doppio scartino terra nera ci serve terra verde ci serve terra blu che cazzo ce ne frega un'eventuale neo form però si è la più capabile da togliere se vuoi levo una terra verde quanti neo form abbiamo tre neo form sì perché se peschiamo neo form possiamo far evolvere il 1-1 però se vogliamo giocare quello no togliamo la terra blu togliamo la terra blu stavo solo ragionando no effettivamente lo possiamo fare leviamo balaget recovery eh no perché non possiamo giocarlo 1-1 se togliamo la balaget recovery ah giusto dobbiamo togliere la terra blu tolta ci abbiamo provato è sempre giusto ragionarci un po sopra poi alla fine assolutamente i grandi giocatori questo fanno e insomma silversmoth goal poi pescano silversmoth goal vabbè dai al massimo ma il che vada si cicla comunque un mazzo veramente consistente cioè uno dei mazzi più antipatici contro cui mi è capitato di giocare perché questo è tra quelli è come si chiama inizio da dures vero sì stavo pensando scusami stavo solo ragionando se vorremmo fare quel balaget per uno scartino prima o poi o se possiamo giocarlo ma adesso abbiamo questo sì sì facciamo dures guardiamo la mano per ora non ci ragioniamo questa brutta quella orribile l'altra qual è? bring to light bring to light via togliamo prima bring to light eh certo e cos'altro aveva in mano? aveva un altro di questi ah io avrei fatto terra tappata faccio terra tappata? sì ma quella il turno dopo avresti potuto giocare la stappata ah ok però ha detto di tenersi balaget per un eventuale scartino sì sì non è no 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 no? ragioniamo perché forse dobbiamo fare talk side lui in mano aveva comunque Quello che costa 5 Allora dice Esila tutte le creature di place walker Con converte manos 3 or less dal battlefield E tutte le creature con 3 or less dal cimitero Quindi noi prima di scombare Dobbiamo per forza fare un toy excise Su quella cosa se no ci ammazza Certo Sai che forse bisogna fare Perché noi abbiamo solo un mana nero E' quello il problema Al solito Noi possiamo fare questo Aspettare che lui faccia una cosa Tipo Omnath E poi sperare Questo terra pescare una terra stappata Nera Abbiamo 4 Abbiamo 4 di quelle su Secondo me Meglio fare Toxizzo adesso Ho paura di si Perché comunque se facciamo Toxizzo adesso Ci diamo l'auto il prossimo turno Di pescare una qualsiasi terra Scartino eh Male male eh Eh ma noi non possiamo Non togliergli quella che Quella fare lì ci ammazza È chiaro Dobbiamo toglierla per forza Perché noi Terra Se lui adesso fa Omnath Sì E Balagalea Secondo me Se lui adesso fa Omnath Aspetta Se lui fa scartino Ci leva la spia Non la dobbiamo recuperare Ma Sì Però se peschiamo Eldrick Evolution Possiamo poi trasformarci l'1-1 No va bene Fai l'1-1 perché abbiamo il goal Da poter trasformare A me sembra buono Perché lui così adesso Quando farà scartino Dipende se pesca terra adesso Se fa Omnath adesso Eccetera Però Troverà una mano Quanto meno resistente Eccola qui Fatta Hotterazor Leva Balustrade Spy E noi ce la riprendiamo al turno dopo Sperando di pescare terra Noi della sua mano Conosciamo solo più un Omnath E abbiamo riscatto l'altro Questo è un problema Dobbiamo giocare goal Dobbiamo giocare goal per forza E dobbiamo sacrificarlo Perché se no non abbiamo Questa la faccio? No O sì Secondo me a questo punto Della partita sì Eh sì Quella secondo me Perché se no non abbiamo goal Al cimitero macinati Cioè questa è proprio sfiga È proprio sfiga Però Come dicevamo ragazzi È bastato uno scartino Basta venire preparati Contro i combo È che i combo sono imbattibili Però uno si deve preparare Ok Qui noi potremmo fare Sulle sue due carte Ma non lo faremo mai Perché dobbiamo Se no mai ci creiamo Dobbiamo pescare Dobbiamo pescare no? Sì Oppure Puoi giocare Sì Un'altra terra verde Del tutto inutile Quel Balaget recovery Me lo dovevo tenere Ora lui non vede l'ora Di fare bring to light Lo vedo proprio No Invece Niv mid set Quindi abbiamo ancora Una mezza speranza Di pescare tipo Ora Il nostro pay off Intanto lui Da niv mid set Trova bring to light Dovin sveto e teferi Non tanta roba Anzi scusa Bring to light Dovin sveto e teferi Non le può prendere tutte Quindi Qui tra l'altro Se facciamo questa dalla mano Rientra la 3-1 Così Un po' a caso Eh lo facciamo Mi sa No? Ah rientra la tappata Quindi manco un blocco Rientra la tappata Cioè a sto punto A sto punto Forse gioco L'altro 3-1 Che a meno è stappata Blocca omna Ma blocca Fino a un certo punto Perché comunque Se dovessimo pescare Eldritch evolution Perché comunque Non possiamo fare Visto che ci siamo Dati via terra blu Neoform Quindi E lui ha veto Ma lui ha Ashok Quindi fa prima Però fa una 2-3 Anziché rimandarci in mano Questa Quindi qui ha sbagliato Un errore Perché non conosce bene il mazzo Ci lascia il top deck Di Eldritch evolution Che non arriva Concediamo Arriva un decay Che non serve a mente Peccato Peccato Però ripeto Secondo me abbiamo commesso un errore Quel balagedd A quel punto Non andava giocato Non andava a riprendersi spia E vedere che cosa poteva succedere Si Si può stare Ok Submit deck Giusto? Forse Forse togliamo I decay I decay I decay non sono A meno che L'uno Mi abbia pezzi di oro Se ce l'ha Tuttiamo decay Tuttiamo decay Cosa abbiamo tolto? Che da consistenza Informer Che rimetterei Sì Informer E forse rimetto Wurm Ho rimesso Creeping Chill Creeping Chill Non penso sia così tanto fondamentale Perché lui non ha Tutti questi modi Per curarsi Ciao Sì ha solo quello Ma è abbastanza lento Rispetto a noi E non ci fa tutti questi danni Che abbiamo bisogno Di quelle tre vite in più Mentre invece il Wurm Ci da più turni In cui possiamo attaccare Quindi secondo me È più forte E questa è la mano Immerta Perché non ha nero No Ma non ha neanche la seconda terra In verità Se aveva la seconda terra Era una buona mano Ma non ce l'ha Madonna mia Che brutta Ah no Questa va bene Scusa Che sto dicendo Non è spettacolare Però insomma Cos'è che hai messo sotto Scusami Uno dei due Creeping Chill Sì Che abbiamo pescato Sì 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 Vabbè Qui noi abbiamo la win Madonna Dai Sì 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 Non peschiamo un altro ghoul Abbiamo la win Stappato Al prossimo turno Sì Ma lui Fa scartino Perché è uscito preparato No E invece Non fa questo Quindi Nioform Sì Hai visto che finalmente Scombi di Nioform Hai visto L'abbiamo fatto vedere In Come si chiama In telecamera Ed è stato fatto apposta Undersit Informer Che Si sacca da solo Per fare la scombata Abbiamo un Vorm in mano Questo non è proprio Però ne abbiamo Ne abbiamo messo un altro Sì Uno ce l'abbiamo Sì Sì Tanto adesso lo vediamo dai trigger Però l'abbiamo messo prima Sì 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 Sennò eravamo morti Tra l'altro No perché in upkeep Possiamo scartarlo Di haunted death Uh Mamma mia Eh sai quante volte L'ho fatto I miei oppo erano Fammi di che ero morto Upkeep Haunted death Ciao Che trick Non so se abbiamo Little Non lo so Neanche No In verità sì Sì Dipende cosa Se lui mette Altro bloccante Forse Abbiamo 3, 6, 9, 12 Lui sta a 12 Quindi Sì Se mette bloccante Abbiamo l'Ital Slaughter Games Questo lo leva anche dal cimitero Sì Aia Aia Ah però Vedi che belle partite Beh Aia Ci leva il vurm Aia Aia Siamo morti Bello 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 Però bella partita di Magic Dai Cioè comunque Vedi come si vincono E si perdono le partite Così GG Sì 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 Aia Questa è la grossa GG Eh questo è uno dei motivi Per il quale giocavo le line Che però non so se vale la pena Beh Su 80 carte Va bene Va bene Ci muoviamo verso il 3-2 Speriamo chiaramente Però Il mazzo continua ad essere consigliato Ci sono certi match up Che li vince proprio gratis Quindi se non avesse avuto Slaughter Games Dalla mano Era morto 100% Mullico Sì Sì c'ho Neoform C'ho quello C'ho tutto Keep E mando giù Creping Shield Sì non abbiamo Il mana blu Eeeh Caspita Però possiamo pescare O un mana blu O un altro payoff C'è Cazzo Sai che non ci avevo pensato A non avere mana blu Siamo contro Di chi è Tia 93 Minchia Ma chi è No 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 Devo fare questo Sì 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 Ok Sì sì Eh questa è una bella pescata Ammazza Una bella pescata Di 93 gioca a Spirit L'ho battuto Al PTQ È un ragazzo italiano Mattia Rizzi Eh certo Lo conosciamo tutti Mattia Rizzi In realtà ha giocato anche con me Non credo che si sia accorto Che Ha giocato con me in video Dico eh Spia 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 Sto sbagliando E questa casa Cioè questa partita Ci la siamo portata a casa Ah infatti Lui ha concesso subito Senza neanche giocarla Spiriti non è bellissimo Ci servono I DK Senz'altro Togliamo Non so se Mattia gioca le gabbie Vado a cercare su internet Io direi brutali ti via Come? Brutali ti via Sì sì No Buttati ti via Eh boh Perché tu vuoi tenere il reclamation Perché sennò Qual è l'altro suo pezzo di hate? Come si dice? Rest in peace? Eh sì Però Reclamation è forte Contro rest in peace Tutorabile Io uno perla metterei L'ho messa Che levo? Ne devi togliere una? Sì Informer Ma forse toglierei anche Worm e metterei assassin trophy Worm Informer Quindi mettiamo in tutto Quattro emozioni Tre trophy E 3 DK Un trophy Submit Sì E il reclamation No? Eh sì Certo Ho pensato Il reclamation Quello era Ok ok Sì quindi abbiamo In tutto 5 Sì Ok Mi piace Mi piace che Mattia Si continua a giocare Pioneer Il pro tour Dove è arrivato meglio Abbiamo Tutto Direi che tengo No? Sì abbiamo tutto Trano il payoff Ma giocandone 14 Eh caspia Lo troveremo Al di là del fatto Che lui però gioca Counter Quindi comunque Diciamo che Eldritch Evolution E quell'altro Sono un po' così Bene Cominciamo subito Con una pescata di merda E Ma partiamo con quella Che da più 1 più 1 Che è sempre la più morta Ah sì È la più mortosa Certo Adesso in peace Non è arrivato Perché è buono Qua se Se noi facciamo Lo 0-3 Ci becchiamo un counter Molto probabilmente Che counter c'ha? Quello che costa 2 Lofty Denial Eh sì Quello che devi tappare Tipo 4 Una cosa del genere Non mi ricordo bene Me l'ha giocato contro Diverse volte E se ci becchiamo Il counter Forse siamo felici Perché Magari pensa Che abbiamo Un payoff in mano Ma noi in realtà Non ce l'abbiamo Io proverei a giocarlo Lo 0-3 Avrei giocato Il mana nero Probabilmente Non che cambi molto Ma a me Volevo levarmi Stando a blu Dalle scatole Mi dà fastidio solo Vedirla Non ti piace Esatto Non ti piace Invece il counter Non ce l'ha C'è il rattleshains Con cui chiaramente Ci comincia a menare E adesso Ci terrà praticamente Sotto scacco Con Come si chiama Sì Noi dobbiamo Dobbiamo No Non una bella pescata E ok Allora Gioco questa tappata E faccio un ghoul Anzi Gioco il nero Così sei contento Tappato Certo Certo Qui Non prendere danni È importantissimo Il ghoul Sta là Lui Non credo Countererà Infatti fa Empyrian Eagle Tanto Rattleshains Da Flash C'ha tutti I suoi spiriti E quindi Poi ci attacca Va bene Questa è una Merda Colossale Non possiamo neanche Atteccare col ghoul Perché Facile che Ci blocca Ci ammazza Giusto Però ci pescheremo Una carta Sì possiamo ciclarlo Se lui blocca Io attaccherei Giusto Noi abbiamo anche Un trophy Che potrebbe Risolvere quasi La partita Perché leva Quel lord Tanto male Non è Ma lui qua Ci fa un collected Grosso come una casa Ma proprio Grosso come una casa Credo Sì Mettiamo uno stop In end Arriva Remorseful Cleric Che tipo Ci ammazza Sì Quello lo dobbiamo Rimuovere con trophy Adesso Eh sì Perché non lo faccio Stappare Con quell'affare Perché se l'è Saccato Ah no Si è preso una terra Ok Va bene E poi Scarterò Per pescare Uno Qui i danni Sono tanti 3 6 7 8 Noi abbiamo Un turno di vita Esatto Quindi abbiamo Due pescate Quella di mano E quella che faremo Tra l'altro Non possiamo fare neanche La bolt land Lui è la counter in mano Eh se a counter in mano Siamo morti Sì Non c'è niente da fare direi L'abbiamo pescato il payoff Ad averci avuto Avuto quella vita in più Due vite in più Avremmo potremmo fare Scartino Invece dobbiamo per forza fare Eldritch evolution Posso è stato un neo form No Neanche con il neo form Non ce la facevamo Ok Non penso che sia worth Mettere le nebbie No Io non Non sono contro Nebbie contro Questo match up Secondo me Tossiz Già è bello Perché lui comunque Gioca appunto Con le tè compa di carte Che poi noi possiamo Ricordare Di che Fantastico Submetto e vado Ma mi senti ancora? Sì 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 Ok Ti avevo perso Per un attimo No 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 Ci sono ci sono Stavo solo ragionando Perché mi sto ancora studiando La s***a Ora Per cento Ah 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 Questo 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 Sembrerebbe un keep Io tengo Questo è un keep Ci metto un Un po' Ah no mi manca una terra In verità Però posso fare questo E poi Sì questo è un keep Terra nera tappata a passo Perché se peschiamo talk size Vogliamo farlo Molto bene L'ho pensato anch'io E Mi sembra ottimo Ma solo è un wanderer Ci impedisce di scombare Con il nostro Abbiamo anche la quarta terra La quarta terra arriva Dobbiamo aspettare Un turno in più Comunque per fare Se lui qua va tapped out E noi lo facciamo Se non va tapped out Ma io andersi Lo faccio lo stesso C'ho balustrade spy dopo Sì Abbiamo trovato C'è il senso Sì Il progetto Ci lo mangia Con Com'è che si chiama Quello Il 23 Uh 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 Attenzione Ce l'hai rip fra Ho rip Quel Coso Quello Lo spirito Che ha fatto prima Che c'è Qua Qua rischiamo Non ha concesso Non so cosa ci può avere Sono veramente molto Eh ma I suoi spiriti hanno flash Tutti i suoi spiriti hanno flash Eh Potrebbe avere Quello che ci Ci esilia il cimitero Eh certo Lo potrebbe avere Noi non possiamo Giocarci intorno No A meno che Lui non si dà paut A meno che Non peschiamo uno scartino No O uno scartino O una Brad decay No neanche No Brad decay Non serve a niente Perché noi Quando facciamo la combo Lui lo fa E noi siamo Quante carte ha in mano Lui 5 Allora Non ha il verde Non ancora Il prossimo turno Se ci piega Se mette un lord Tutti prendono Più uno Più uno Ci arrivano Minimo Sette pizze Minimo E il turno Dopo sicuro Siamo morti Quindi abbiamo un turno Per pescare Toxiz Toxize Però se noi facciamo Toxize Lui risposta Fa spirito Quindi noi dovremmo Avere a Brad decay Per rimuoverglielo Quindi non possiamo Giocarci intorno Dobbiamo provare Vado allora Sì Tra l'altro Lo posso anche attaccare Sì No Sì Sì Faccio due danni in più Sì Perché se blocca In risposta Faccio la combo Incrociamo le dita Sembra non succedere Nulla Eh ma perché non è ancora Andato al cimitero La roba Giusto Tra l'altro Se c'ha con lo spirito Neanche i crimine Cil funzionano Vero? Eh penso di no Eh no Perché c'è l'esilia Prima della risoluzione No ma tanto Se c'ha con lo spirito Siamo morti a priori Perché neanche il worm Funziona Siamo morti Due mana Tappa O sta facendo una finta O siamo morti Cioè se c'è la ci sta Lui ne giocherà Due decide Tipo E forse E ha pure La creatura Che dà flash Quindi Se ce l'hai È stato abbastanza Fortunello Noi non abbiamo visto Scartini Il match up Già non è dalla nostra Mi dispiace Averti fatto perdere 50 pp Ma figurati Ma ti pare Io faccio queste Questi video Assolutamente Insomma E invece non ce l'ha Eh se non ce l'ha Siamo dei ragazzini Fortunati E la gente E la gente ci odierà Ancora di più Per questa vittoria Questo è poco Mascicuro Amico 25 a 4 Entrano I ghoul Che fanno Questo ce l'ha Ma non serve Beh oddio Può ancora pescarlo Può pescarlo adesso E invece concede E abbiamo vinto E quindi siamo andati 3-1 No scusa 3-2 Alla fine Dai ci apriamo pure La cesta Che mi sento fortunato Come siamo stati fortunati In questa lega Non lo so In verità il mazzo Mi sembra consistente Ti dicevo prima Ti dirò Dopo il ptq Secondo me ha perso molto Perché T'ho sorpresa Tra Slytherwisp Secondo me Nessuna delle due carte Vale niente Vero? Cioè Comunque Come puoi vedere A livello di consistenza Di main deck Build G1 Li vinciamo quasi sempre E A meno che quando Non sfighiamo E Spesso volentieri Abbiamo la combo A turno 3 O a turno 4 Quindi Il mazzo Consistente Consistente Il problema È il meta Che si sta adattando E tutte le side Infatti Quello che ti dicevo prima Era Che uno dei mazzi Per me più Antipatici Proprio È Neoform combo Di modern Che è un mazzo Veramente Che quando si gioca contro Vorrei Tutte le volte Bestemmiare Però Quello c'è un problema Che muore veramente da solo Cioè è un mazzo Che non è per niente Consistente Che può vincere un ptq Una lega Se sei in chiappa Quel giorno lì Però Cioè questo Invece mi sembra Proprio un mazzo Cioè che la sua cosa La fa Sei tu Che devi Impedirglielo In qualche modo Poi Slaughter Games All'ultimo turno Per il Worm Anziché Qualunque altra cosa Adesso Come hai detto tu Non c'è Surgical Però Rest in peace Layline Melma Perché anche una melma open Ti fa male Basta che ti mangi due gulla Non rientro più niente Sono tutte carte Bene o male Al quale noi Abbiamo risposta A parte Melma e cage Che sono le più complicate Però per tutte le altre Rest in peace Abbiamo il tutorabile Sage Cioè Il rest in peace Secondo me È meno di problemi Per i più grossi Sono cage Dicevo Come in tutti i combo È chiaro Cioè Tu devi fare la cosa tua E poi G2 e G3 Sei fragile Mettere le tue risposte E vedere che succede Ma comunque Portare a casa G1 Hai già fatto 50% dell'opera Eh sì Ti basta schiappare Uno degli altri due game Cioè Alla fine Spesso volentieri Oppo Non ha hate In mano iniziale Quindi mulliga E poi Magari si trova A ligare a 5 Avendo il pezzo di hate Ma senza aver race Sì Sai perché Soprattutto perché In questo formato È calato Un pochino Mono black aggro Che è l'unico Mazzo che ha Scartino Che a noi ci fa molto male Perché è vero Noi abbiamo tanti pay off E tanti modi Per fare la combo Però se ce lo scartano Dobbiamo ripescare Su 80 carte Non è proprio semplice E oltre a scartino C'è aggressione Invece Se tu mi fai scartino Da niv midz Ma non mi aggredisci E mi dai tempo Io lo primo Poi lo tiro fuori La combo Eh ma infatti Io Alla win and in Del ptq di domenica L'ultimo turno Ottavo turno Ero 6-1 E ho trovato Mono black aggro Ed ero triste Ho detto Minchia mi sono bruciato La top Invece G1 Non mi ha visto scartini Mi ha messo un po' di pressione Ma io ho più pressione Di lui A turno 4 Ho vinto E G2 Ha visto quadruplo scartino Quattro scartini Ma io ho tenuto mano Senza pay off E lui Avendo fatto quattro scartini Mi ha messo solo due creature Che mi attaccavano E io a turno 5 Ho pescato il pay off Ho vinto Pensa un po' Bello Sai che emozione Quando stai lì Alla win and in ero casatissimo Ti credo Ti credo Senti Allora Grazie mille Per aver partecipato A questa serie di video Grazie per averci portato Questo mazzo Per cui Ti odieranno tutti Tutti ci sarà scritto Che schifo A chi la cosa combini Eccetera Però ragazzi Anche questo è magic Ve l'ho detto Anzi Adesso che lo avete conosciuto Sapete Come batterlo Grazie ancora Edoardo E Grazie a te per questa possibilità Ma sì Ci mancherebbe Saluta Mi eisen Ragazzi Mandatemi un giocatore Pauper Che sappia giocare Agro in Pauper Perché voglio giocare Agro in Pauper Ok Va bene Ce l'avete no Il team Non è un problema Eh Se vuoi un video con Pauper Lo facciamo Non è un problema Sì 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 No ma me l'avevi detto Però era per dire Che volevo giocare agro Se c'avete qualcuno Magari anche per cambiare persona Io sono qua E complimenti ancora Per il PTQ Mi raccomando Adesso studiati sto standard Eh sì 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 Grazie mille Ciao 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 a tutti ragazzi Grazie per aver guardato